Grazie Grazie La mamma, io l'ho detto, chiunque vuole bene a mamma era il ben accetto, questo è stato quello che volevo io, io volevo un funerale di gente che avreste amato mamma, è quello che avrebbe voluto volere, una cosa sociale, tutte le persone che gli vogliono bene, grazie Lei ha detto oggi, Virna, non è lì si immagina, è mia mamma, è vero che era un'attrice che tutti l'amavano, però era la mia mammina È stato un grande abbraccio oggi, si vede, tanta gente comune che vuole bene Ma anche questi due giorni ho avuto delle manifestazioni incredibili, non pensavo di averle da tutto il mondo, gente che non vedevo da anni, gente che conosceva mamma negli anni 60, è stato veramente una cosa incredibile Per lei avere una mamma così bella, davvero i suoi occhi luminosissimi risplendevano, eh, comunque Sì, è vero Ho ripreso un po' la mamma Sì, lineamente dice lei, definitivamente È arrivato a dicembre Sì, è arrivato a dicembre Dicembre, io ti ho piaceto Dicembre